salve a tutti ragazzi sono sempre il momento benvenuti in questo nuovo video sul mio canale oggi si decide il futuro del canale signori perché oggi in questo video ci sarà la votazione per appunto decidere la nuova carriera allenatore che come quasi al solito deciderete voi perché si vi lascerò nella descrizione ovviamente un sondaggio ma ragazzi ovviamente per favore prima ascoltate le mie indicazioni e poi andate a votare secondo quello che vi ho detto il vostro gusto personale il vostro intuito il vostro istinto fate quello che volete ma prima il mio consiglio è quello di ascoltare qual è il mio progetto così anche per capire meglio ciò che ho intenzione di fare e appunto così voi potrete votare a seconda anche del vostro gusto io in realtà ho già spoilerato tante volte in live nei video dove volevo affrontare la nuova carriera allenatore ho visto che molti di voi sono d'accordo molti altri non sono d'accordo quello che ho da dire è ragazzi se vi piace come faccio la carriera allenatore io questa carriera allenatore dovrete supportarla realmente perché è un progetto nuovo è qualcosa che sul canale non ho mai portato ed è una sfida nuova molti di voi sono abituati a vedermi magari con l'inter con delle squadre medie come poteva essere una volta l'udinese ho fatto il valencia ho fatto il bayern leverkusen ho fatto altre squadre ma non mi sono mai rapportato a una sfida del genere e perché vi chiedo di seguire e supportare la serie proprio per questo motivo per vedere mezzo in un'altra veste perché appunto non ho mai fatto una carriera allenatore con una squadra del genere questo progetto è un percorso un percorso che durerà tanto ma un percorso che mi permetterà di portare più video magari un pochettino più brevi ma più della settimana perché se no ragazzi si finirebbe all'uscita di fifa 21 infatti signori sto parlando della quarta divisione inglese voglio intraprendere una nuova carriera allenatore nella quarta divisione inglese aspettate però so già cosa state pensando lo fanno in tanti lo fanno in tanti ne io in realtà ne seguo solo un paio e seguendo queste carriere allenatore quella di falco e quella di zeking ho capito che ho bisogno di qualcosa di diverso ragazzi ho capito che ho bisogno di una nuova sfida per farmi realmente riappassionare a questa carriera allenatore a questa modalità di fifa che ogni tanto viene lasciato un po' a se stesso questa può essere la sfida adatta perché sono abituato a partire da una serie b magari o addirittura già da una serie a ma mai da una lega così bassa e qui menzo può potreste scoprire una nuova parte di me come potrei farlo io perché non mi sono mai messo in gioco così tanto quindi può essere un punto realmente importante per la mia carriera sulla carriera allenatore ovviamente signori come detto la fanno in tanti ma io la farò in modo diverso perché ho delle idee mie ho dei pensieri miei e li scopriremo ovviamente che nel corso della carriera ma in questo tipo di carriera il vostro supporto è massimo quindi sotto nei commenti mi aspetterò tantissimi consigli per come gestire meglio magari una squadra da chi ha già affrontato carriere del genere poi ovviamente io seguirò i vostri consigli ma farò anche un po di testa mia per capire come riesco a affrontare una sfida del genere volevate in tanti una carriera allenatore dalla serie b italiana ma signori dato che ho finito adesso la carriera con l'inter penso non sia la scelta giusta quella di ricominciare in italia altri volevano una carriera in ligan ma per la ligan ho un progetto per quanto riguarda tweets quindi iniziamo questa nuova avventura nella quarta divisione inglese con metodi miei con idee mie ma soprattutto con i vostri consigli che mi aiuteranno sicuramente tantissimo ovviamente signori non ho messo tra le squadre votabili squadra come il salford city perché qualcuno la sta già facendo e non avevo voglia di creare un contenuto diverso ma simile allo stesso tempo perché io lo faccio in un modo ma la squadra è sempre quella può essere noioso ovviamente il layton stesso discorso non ho messo nella votazione il forest green anche se in tanti me l'avevate chiesto perché è già stata fatta e io l'ho seguita un pochettino qualche anno scorso qualche anno fa quindi anche lì mi sembrava un po troppo ripetitivo per il resto altre squadre sinceramente le ho messe un po così per gusto personale e a caso sono sono sincero ragazzi a casissimo perché sinceramente non conosco queste squadre non mi sono informato non so che rosa hanno ma signori sarà una bella sorpresa capire come mi muoverò appunto con questi punti interrogativi perché io non so cosa aspettarmi comunque siamo nel menu signori ci sono quattro squadre all'interno di questo sondaggio una su tutte signori è lo stevenage io sinceramente ragazzi non so se qualcun altro l'ha fatta non lo so non ho visto io personalmente carriere fatte con queste squadre poi se su youtube ci sono mi dispiace ragazzi scusatemi spero continuerete comunque a supportarmi stevenage signori cioè una squadra con lo sponsor grande così del burger king come potrebbe non essere la mia squadra può esserlo signori stevenage è la prima squadra che gli metto nel sondaggio con un budget trasferimenti modesto 1.300.000 direi che con 1.300.000 comunque qualcosina si può già fare ma all'interno del sondaggio non ho messo squadre con un budget trasferimenti troppo alto giusto per il gusto si parte dal basso teniamoci comunque bassi e ci tengo a dire che non utilizzerò il 60 per cento in più abbiamo un successo in patria 4 successo continentale ovviamente molto basso fama del brand fama del brand molto basso finanze alte e crescita giovani media quindi qua secondo me ci può essere il giusto equilibrio per quanto riguarda anche la crescita giovani considerate che potrebbe essere la volta buona che utilizzo gli osservatori perché sapete che io non amo utilizzare gli osservatori perché non mi piace allenare giocatori che non esistono ecco però aprirò i miei orizzonti può essere il momento giusto stevenage con quel bel cervo lì nel logo e con il burger king ragazzi guardate la seconda maglia è un fiore un fiore vorrei acquistarla sinceramente già adesso prima scelta stevenage seconda scelta signori port veil mi sono innamorato di questa squadra da quella da quel piccolo diciamo così avvenimento dell'attaccante pop che con quel pop con quel nome lì il papa ragazzi spettacolare con pop che disse se giocassi in premier league e affrontassi sempre stones farei 40 gol all'anno poi quando l'hanno l'ha affrontato realmente qualche giorno fa pop ha segnato realmente contro stones veramente una favola incredibile e per questo ho inserito nel sondaggio port veil anche qui siamo comunque con un milione 300 di budget attenzione alle finanze che ha priorità massima crescita giovani un pochettino più bassa ma non c'è assolutamente problema port veil molto interessante secondo me proprio per questa favola per il resto come per lo stevenage non conosco assolutamente la squadra così la squadra dei goofy l'old ham athletic poi ovviamente andrò a studiarmi le storie magari di queste squadre inserita esclusivamente per il guffo che mi ricorda la squadra di harry potter successo in patria rimaniamo qui sul basso ovviamente molto basso massimo per le finanze crescita giovani alta un milione e 5 di budget non mi ricordo se l'avevo già detto purtroppo quelle maglie sono un po bruttine ma ce la facciamo andare bene e ultima squadra ragazzi il colchester credo sia la squadra con il budget più basso un milione e duecento qui il successo in patria è un pochettino più alto finanze basse crescita giovani alta colchester signori quindi siamo arrivati a 4 che progetto è ragazzi semplicemente quello di vincere tutto con queste squadre che giocano nelle basse leghe inglesi sarà sicuramente un percorso avvincente sarà sicuramente un percorso difficile sarà sicuramente un percorso però che dobbiamo fare nel minor tempo possibile nel senso che non possiamo permetterci di perdere tempo nelle basse leghe dovremmo cercare di passare subito alla league one poi alla championship e poi la premier league ma signori la cosa più importante è quella di arrivare in ogni nuova lega pronti perché se noi arriviamo alla lega successiva che non siamo pronti si fa dura e l'obiettivo mio personale è quello di avere sempre una squadra competitiva sempre e l'obiettivo in realtà il primo obiettivo finale è quello di arrivare in championship barra premier league con una squadra all'altezza e sarà difficilissimo ragazzi perché se noi arriviamo alla championship con giocatori che hanno 65 70 di overall si fa dura si fa dura dopo per la premier quindi voglio cercare di creare una squadra sempre più pronta ogni giorno ogni settimana ogni mese ogni anno che passa sono realmente motivato ragazzi e sono emozionato perché è qualcosa di nuovo è veramente qualcosa di nuovo e non vedo l'ora di iniziare quindi votate in tanti e presto comincerà la nuova avventura presto comincerà la nuova scalata il nuovo progetto ragazzi un progetto che qui sul canale non ho mai fatto per favore sotto nei commenti non scrivete e ma la fanno già in tanti ragazzi se seguite me è perché vi piace come faccio io la carriera allenatore se seguite anche me è perché vi piace come anche io porto la carriera allenatore quindi supportatela e io sarò realmente felice di portarvi tre barra quattro episodi a settimana ora ragazzi tocca a voi stevenage personalmente insieme a porto vale è una delle mie preferite poi abbiamo colchester e holdham athletic quindi ragazzi tocca a voi votate link in descrizione per votare il sondaggio noi ci vediamo un prossimo video spero il primo video di questa nuova carriera e ci vediamo ragazzi un saluto da me e alla prossima ciao a tutti